Porto Vesma SRL e le dimissioni di Lolliri dopo 50 anni, dopo oltre 50 anni di attività nello stabilimento di Piombo e Zinco, il presidente Carlo Lolliri lascia la società ma scrive in una lettera per la fabbrica ci sarò sempre. Carbonia è il nuovo comandante della Polizia Municipale, il designato per ricoprire l'importanza importante ruolo è il toscano Gioni Biagioni e gli succede al dottor Andrea Usai, oggi comandante della Polizia Locale a Sestu. Casa del Popolo e Lilit Uniti per promuovere la cultura, grazie alla sinergia tra le due realtà sociali saranno organizzate svariate iniziative culturali nella periferia della città di Carbonia, prevista anche la riqualificazione di uno spazio urbano nella via d'Almazia. Carbonia domani va in scena il presepe vivente, la rievocazione della natività organizzata dall'associazione Le Simpatiche Canaglie prenderà il via alle ore 19 nel sagrato della chiesa di San Ponziano. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dopo oltre 50 anni al servizio della Portovesme SRL il presidente del consiglio di amministrazione Carlo Lolliri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e lasciato la società. Tutti i dettagli in questo servizio. Dopo oltre 50 anni al servizio della Portovesme SRL il presidente del consiglio di amministrazione Carlo Lolliri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e lasciato la società. La decisione è stata ufficializzata ieri anche se sarà lunedì che l'ormai ex presidente della Portovesme SRL darà l'annuncio ufficiale alla stampa nel corso di una conferenza. Una scelta consapevole è certamente sofferta quella presa dal ragioneer Lolliri come si evince chiaramente dalla lettera dove riassume gli oltre 50 anni alla Portovesme SRL. Mentre mi accingo a scrivere queste righe si legge nell'introduzione della missiva il mio pensiero va a lontano 1966 quando poco più che ventenne mi fu affidato l'incarico di prelevare gli assegni circolari che furono utilizzati per l'acquisizione dei terreni dove due anni più tardi sorse il nucleo originario di quella che oggi è la Portovesme SRL. Ero giovane e inesperto ma assetato di conoscenza scrive ancora Carlo Lolliri. Nella missiva non tralascia nessun particolare ricordando i momenti difficili ma soprattutto quelli felici e ricchi di soddisfazione, gli impiegati, gli operai, i dirigenti e i rapporti propositivi e proficui con le organizzazioni sindacali. Oggi, prosegue la lettera, alla soglia dei miei 77 anni ho deciso che fosse giunto il momento di rassegnare le mie dimissioni dalla Portovesme SRL e, con l'aiuto di Dio, di intraprendere una vita lontano da questa. È stata una decisione lunga, difficile e travagliata ma l'unica possibile. Lascia una società ormai maggiorenne matura in ottima salute. E dello stesso avviso è Chris Eskdale, responsabile della divisione Zinco della Glencore, che in un comunicato stampa ha espresso i più sentiti ringraziamenti a Carlo Lolliri per il prezioso lavoro svolto. Grazie al suo lavoro, si legge nella nota stampa, resta un'azienda con una struttura solida in salute, con bilanci ampiamente positivi, proiettata verso il futuro, che può solo prevedere miglioramenti. Un ringraziamento, infine, la Glencore lo riserva per la disponibilità espressa dall'ex presidente ad offrire pareri e consigli in caso di necessità. Andiamo avanti. La città di Carbonia ha un nuovo comandante della Polizia Municipale. Ad essere stato designato in questo ruolo è il toscano Gioni Biagioni. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio di Manolo Murendu. Gioni Biagioni, classe 1960, è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Carbonia. Si è aggiudicato il posto di comando nella selezione effettuata per sostituire il suo predecessore, il comandante Andrea Usai, oggi operativo a Sestu. Biagioni ricoprirà questa carica a tempo determinato, fino alla fine dell'attuale consigliatura comunale. Il suo è un curriculum di tutto rispetto. Laureato in giurisprudenza, già comandante del Corpo di Polizia Municipale presso il Comune di Montemurlo, ha ricoperto recentemente, dal luglio 2015, anche il ruolo di ufficiale di Polizia Giudiziaria ha segnato la squadra antiviolenza presso la Procura di Prato. Dal settembre 2015, invece, oltre a ricoprire il ruolo di comandante della Polizia Municipale, ha assunto quello di responsabile dell'unità operativa della protezione civile sempre nel Comune di Prato. Ma nella sua carriera lavorativa sono state anche altre le esperienze professionali importanti, come quella di docente. Negli anni 2010-2011 per la scuola interregionale di Polizia Locale nella materia di infortunistica stradale, rispettivamente nei comuni di Pisa, Massa, Grossetto e Luca. Il nuovo comandante troverà una città tutto sommato tranquilla, ma anche una situazione complessa, per quanto riguarda gli organici della Polizia Municipale decisamente rimaneggiati, ma anche diverse criticità, come quella inerente alla sede del comando, ancora lontane dall'essere sanate. Non mancano in queste ore le perplessità di chi avrebbe voluto un comandante sardo e magari locale e di chi pensa che anche la definizione temporale del contratto sia troppo breve per poter incidere realmente nell'attività della Polizia Municipale nel territorio. Starà lui, facendo tesoro delle sue esperienze maturate oltre isola, convincere gli scettici a lavorare per lasciare un segno importante nella città di Carbonia. Cambiamo decisamente argomento. La Casa del Popolo è la libreria Lilith, unite per promuovere la cultura e riqualificare gli spazi urbani nella periferia di Carbonia. Nella conferenza stampa di questa mattina sono stati illustrati i dettagli. Vediamo insieme. Questa mattina ci troviamo la Casa del Popolo di Via Barbagia a Carbonia per documentare un importante cambio di marcia, cambio di paradigma, ovvero la sinergia, l'unione tra la Casa del Popolo e la storica libreria Lilith, una libreria che si è sempre distinta negli anni, nei decenni per le sue battaglie di carattere sociale. Una sinergia che porterà insomma a una nuova rivitalizzazione del quartiere di Via Dalmazia anche con la costruzione di un nuovo strumento, uno spazio urbano che verrà riqualificato nell'interesse dei bambini, dei cittadini, di questa zona periferica di Carbonia. Possiamo illustrare nel dettaglio in che cosa consiste questa nuova sinergia e soprattutto questo progetto? Sì, allora la Casa del Popolo è aperta qui da due anni, riveste un ruolo molto importante per il quartiere e per la città perché all'interno si organizzano diverse attività di carattere sociale, ripetizioni gratuite, il pastificio sociale, di carattere culturale, dibattiti, incontri. Ma noi in questo periodo anche di crisi sociale della città ma anche del paese vogliamo rilanciare la nostra attività e da gennaio si lavorerà per il recupero di un'area verde che sta qua fuori la Casa del Popolo e la riqualificazione di questi spazi che consentirà alla città di riappropriarsi di un luogo che oggi è abbandonato e lasciato diciamo all'incuria e lo farà grazie a uno sforzo collettivo sia della Casa del Popolo che ci auguriamo di tanti volontari e volontari che metteranno a disposizione il loro tempo, le loro energie per dedicarle a questo progetto. In più si trasferirà a breve la libreria Lilith al nostro fianco e speriamo da questa sinergia di trarre beneficio entrambi. Un modo per continuare in questa grande opera sociale di promozione della cultura e anche in qualche modo di promozione di quegli strumenti indispensabili per ogni essere umano per orientarsi nella società moderna. Sì, un modo proprio per continuare nel senso che noi siamo nate come cooperativa, una cooperativa che ha fondato una libreria e la cooperativa di per sé stessa è il senso della comunità, è il senso del lavorare insieme. Tenendo conto che ormai abbiamo raggiunto una certa età, allora il problema era vendere la libreria o cercare di farla sopravvivere attraverso la partecipazione di altri gruppi che lavorino non per la quantità ma diciamo per la qualità ecco se non vogliamo parlare di soldi. Per cui quello che abbiamo pensato è proprio spostarci presso la casa del popolo che dove ci sono tanti giovani, tante ragazze che potrebbero continuare il lavoro che abbiamo iniziato noi e in questo modo dare continuità ad un'attività che ormai dura da 35 anni. Naturalmente potrebbe non essere esattamente come noi l'avevamo fondata, i tempi sono cambiati, però quello che ci sarà di positivo sarà il fatto che ci saranno energie nuove rispetto a noi che ormai abbiamo la nostra età. Per cui energie nuove, un ambiente nuovo, un luogo che già si presta appunto di per sé stesso ad un'attività comunitaria e questo insomma abbiamo pensato che fosse la soluzione migliore, che sia la soluzione migliore. Con l'obiettivo generale e nubile di stimolare la partecipazione dei cittadini perché stimolando la partecipazione dei cittadini si aiutano i cittadini a diventare insomma dei veri cittadini in questa democrazia, insomma a esercitare il proprio diritto di cittadinanza attiva. Sì, ovviamente noi siamo molto preoccupati del clima che si sta sviluppando non soltanto nel nostro paese ma in realtà in tutta Europa. Pensiamo che la risposta a questa crisi economica, sociale, a questa crisi delle disuguaglianze perché ovviamente il divario tra chi ha e chi non ha sta sempre aumentando. Noi pensiamo che la risposta non debba essere quella dell'odio, della violenza, del razzismo, ma debba essere altro. Debba essere la socialità, il recupero di certi valori di comunità e pensiamo che davvero attraverso questi noi possiamo dare una risposta alla crisi che è in questo momento imperversa da noi, nel nostro territorio in particolare, ma dappertutto in tutta Italia e Europa. Bentornati in studio, è ormai tutto pronto per la terza edizione delle presepe vivente che domani allieterà la città di Carbonia. La rievocazione della Natività di Cristo andrà in scena nel Sagrato della Chiesa di San Ponziano. Vediamo. Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, si ripete a Carbonia, nel Sagrato della Chiesa di San Ponziano, il presepe vivente, ovvero la rievocazione della Natività di Gesù Cristo. Siamo con Gigi Carta, presidente dell'associazione Le Simpatiche Canaglie, organizzatrice di questo meraviglioso evento. E quindi ci siamo? È quasi tutto pronto per sabato? Sì, tutto è pronto. Ormai dopo pomeriggio ci saranno le prove e domani alle 19 inizierà il tutto. 40 figuranti che interpreteranno i personaggi della Natività. Esatto, una quarantina di persone tra bambini e adulti che interpreteranno questa narrazione diciamo della nascita di Cristo. Un evento per rendere questo Natale ancora più magico, oltre che per garantire ovviamente anche un'attrattiva ai cittadini di Carbonia e del territorio che vorranno convenire all'evento, ma anche per rendere il Natale più magico, soprattutto per i più piccoli. Certamente, sicuramente. Noi poi siamo un'associazione che pensiamo molto ai bambini, soprattutto ai bambini, quindi. E poi ci divertiamo anche noi grandi. I 40 figuranti, insomma, interpreteranno i personaggi della Natività. Praticamente ci sarà Gesù Bambino, una muschia che accompagnerà tutto l'evento, anche una voce narrante. Sì, ci sarà una voce in sottofondo che narrerà appunto la storia. Ci saranno i Re Magi, arriveranno i Re Magi, ci sarà il popolo, i mestieri, Giuseppe e Maria, ovviamente. E questo è quanto. E quindi un appello a tutti i cittadini a partecipare a questo importante evento, anche per coloro che credono nel Natale, oltre che come festa, come tradizione, anche come momento veramente di annunciazione di quella che è la parola di Dio e soprattutto la salvezza per tutti gli uomini. Da quel bambino, insomma, sono nati tanti dei valori che oggi caratterizzano la nostra società. Esatto, quindi vi aspettiamo alle 19, durerà 40 minuti non di più, quindi non preoccupatevi e quindi vi aspettiamo. Sono 40 i milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale per rilanciare il settore dell'artigianato in Sardegna. Lo stanziamento è arrivato dopo il proficuo lavoro di confronto fra la Confartigianato Imprese e gli assessori regionali Fasolino e Chessa. Si aggira sui 40 milioni di euro lo stanziamento di risorse previsto dalla Giunta regionale per far ripartire l'artigianato in Sardegna. Un segnale accolto molto positivamente dalla Confartigianato Imprese che tramite il proprio presidente Antonio Mazzuzzi ha diramato nelle scorse ore una nota nella quale, espresso grande soddisfazione, è rimarcato che questo risultato è frutto del lavoro e del dialogo intrapreso tra l'associazione da lui rappresentata e gli assessorati regionali al bilancio e all'artigianato. Secondo Mazzuzzi la scelta di voler puntare al rilancio del comparto artigiano investendo in genti risorse è la dimostrazione della forte attenzione dell'attuale amministrazione regionale nei confronti di un settore considerato, soprattutto negli ultimi anni, di Serie B. L'odierna decisione, ha commentato l'esponente di Confartigianato, arriva dopo pochi giorni dall'interlocuzione avuta con importanti esponenti della Giunta ma è anche frutto del confronto avviato e portato avanti negli ultimi mesi con gli assessori Giuseppe Fasolino e Gianni Chessa, i quali hanno ben capito e sostenuto le ragioni di un settore che oggi rappresenta il 22% dell'economia isolana e offre lavoro a ben 100.000 persone. Con Confartigianato Sardegna in questi mesi ha anche più volte chiesto che fossero rimpinguate, rese più snelle e agibili, le due leggi che sempre hanno dato energia economica al settore, ovvero la 949 del 1951 e la storica legge 51 per l'artigianato sardo. Per l'associazione, tali leve rappresentano un essenziale strumento di sviluppo e rafforzamento aziendale per incentivare l'investimento tecnologico, la formazione e creare nuova economia e capacità assunzionale. In ogni caso, come è sempre accaduto in ogni legislatura, ha concluso il presidente di Confartigianato, l'associazione da lui rappresentata non mancherà di offrire alle varie commissioni consigliarie e a tutti i consiglieri regionali il proprio apporto costruttivo e concreto in termini di confronto e di indicazioni per lo sviluppo del settore. Contrariamente a quanto richiesto, il Senato ha bocciato l'emendamento alla finanziaria che avrebbe dovuto prorogare l'accessazione del mercato tutelato dell'energia previsto per luglio 2020. Abbiamo approfondito l'argomento con il presidente territoriale Giancarlo Cancedda. Sentiamo. Purtroppo, contrariamente a quanto abbiamo annunciato anche l'ultima trasmissione la settimana scorsa, dove eravamo certi che lo Stato, il Governo, avrebbe prorogato l'accesso del servizio, elettrico privato e l'annullamento del servizio tutelato che era previsto per il primo luglio 2020, questa legge è stata, l'emendamento alla finanziaria 2020, è stato annullato dal Senato. Noi avevamo chiesto una proroga dall'accessazione del mercato tutelato dell'energia elettrica, che era il primo luglio 2020, una proroga al primo gennaio 2021, quindi di un anno e mezzo. Perché? Perché purtroppo non c'è ancora chiarezza, non conosciamo bene la situazione, se tutte le aziende che vendono elettricità sono in regola, se quanto ci propongono è lecito o meno, c'è una grossa giungla di offerte che ancora non riusciamo a capire, ci manca un vero elenco di comparazione di prezzi fra le varie offerte e pertanto come associazione di consumatori abbiamo chiesto la proroga, che il Governo era d'accordo a concedere, ma il Senato per motivi tecnici l'ha bocciata. Pertanto rimane ancora il termine al primo luglio 2020, ovviamente noi consigliamo, attendiamo ancora, non rispondiamo positivamente, salvo che non ci interessi proprio l'offerta, alle varie telefonate dei consenter, abbiamo ancora sei mesi di tempo, abbiamo fiducia che venga ripresentato un decreto o una posta legge sul rinvio, perché abbiamo necessità di chiarezza, pertanto le telefonate che riceveremo, le varie offerte, molto anche allettanti, se ci convincono e vogliamo cambiare siamo liberi di farlo, ovviamente dopo la prima o seconda fattura se non ci va cambiamo, ma se attendiamo ancora è bene, perché ricordiamo fra tutti gli iscritti, fra tutti gli esercenti, fra tutti coloro che usufruiscono del servizio elettrico, ben 56% degli italiani che hanno questo servizio non hanno ancora cambiato, appunto perché non c'è la chiarezza che noi chiediamo su questi contratti. Pertanto la riforma, la proposta di legge di prorogare al 2021 è stata al momento bocciata, verrà riproposta ai prossimi mesi, al momento è confermata l'accessazione del mercato tutelato il primo luglio 2020, consiglio, attendiamo, abbiamo ancora tempo. Apriamo la terza parte del nostro telegiornale, parliamo di eventi, proseguo infatti a Sant'Antioco, la mostra ai presepi nell'isola. La manifestazione natalizia, organizzata dall'associazione Sant'Antioco Abbraccia il mare, si articolerà fino al prossimo 6 gennaio. Vediamo dunque l'intervista che abbiamo realizzato con Nadia Pischi, collaboratrice dell'evento. Nadia Pischi si svolge in questi giorni a Sant'Antioco, in realtà è già iniziata e partita il 14 dicembre, la manifestazione natalizia, i presepi nell'isola. Una mostra bellissima con tanti presepi e soprattutto delle attrattive che in questi giorni si articoleranno nel corso Vittorio Emanuele all'interno della città di Sant'Antioco. Quali sono le bellezze, le attrattive, le novità di questa mostra? Dunque, come sempre, mentre si attende Babbo Natale bisogna in qualche modo divertirsi, bisogna in qualche modo trovare delle scuse per stare insieme. Una di queste scuse è appunto quella che è stata inaugurata il 14 dicembre ed è la mostra del presepi artistico di Gianni Salidu, che è uno scultore di Sant'Antioco, di circa 60 presepi tradizionali artistici. Questa mostra offre l'occasione per vedere quanto la natività, per esempio, possa essere rappresentata in diversi modi. Sappiamo che l'arte ha diverse sfaccettature e questa è appunto un'occasione per fare in modo che si possa vedere in quante forgi si può presentare. L'inaugurazione è stata anche, come dire, importante dal punto di vista musicale, c'è stato il gruppo Corodia Voci di Sardegna. Proseguiamo con le altre iniziative, le persone vengono, sono in tante e hanno, come dire, sono piacevolmente sorprende da quelle che vedono. Lungo il corso Vittoria Emanuele, al numero 27, si possono proprio osservare tutti questi presepi. Il 6 gennaio, per un'iniziativa della provincia del Sulcisiglesiente, con un gruppo di amici, la Scatola dei Colori, ci sarà un'estrazione, ci sarà proprio la Befana, la Befana, quindi un avviso per tutti e un invito a tutti, che farà delle estrazioni e ci saranno in palio dei libri, perché anche la cultura è importante. Sarà il giorno finale di questa manifestazione? Il giorno finale, sì, il 6 gennaio alle 17.30, alle 17.30 perché poi di mattina c'è la Befana che scende da Campanile a Carbonia, di pomeriggio c'è la Grande Miniera e concludiamo con l'ennesima Befana a Sant'Antioco. In ogni caso la mostra in questi giorni è fruibile gratuitamente da tutti nella via principale del paese di Sant'Antioco? Sì, è fruibile a tutti, ripeto, stanno venendo in tanti e ci piacerebbe che veniste proprio tutti, ma la cosa è importante, per partecipare all'estrazione dei libri occorre scrivere una letterina a Bobo Natale, una letterina dove però non potete chiedere né giochi né playstation, dovete chiedere qualcosa di magico, qualcosa di magico che intervenga per sistemare questo mondo un po' rotto, quindi un po' di cerottini speciali. È in programma per lunedì 23 dicembre presso il Teatro Centrale di Carbonia alle ore 20.30 allo spettacolo di danza a destinazione Polo Nord, a cura della scuola Royal Dance dell'istruttore Matteo Bernardini. Saranno numerose le coreografie che si alterneranno sul palco del Teatro Centrale per augurare a tutti i presenti un buon Natale e buone feste da parte di tutti gli allievi della scuola, bambini e non e dal loro insegnante Matteo Bernardini. Andiamo avanti, siamo in chiusura questa sera, a venerdì 20 dicembre alle ore 18.30 presso la parrocchia San Ponziano a Carbonia si terrà lo spettacolo musicale dal nome Armonie di Natale. Parteciperanno i cori, i centrostudi musicali in Armonia, Sugonti e Collegio Musicum Morte Verdi. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, io vi lascio le previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e a Noasa in Curzio, il nostro telegiornale in lingua sarda. Grazie per essere stati con noi e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.